evidenza la contraddizione mentre ci sono situazioni costituite da siti, istituzioni come la Casa Natale 12 Pirandello, legalmente creata con leggi regionali, parchi come il Parco Pirandello che è diverso dal Parco Letterario, che ancora da reggendo molti non hanno capito, il Parco Letterario ha altre istituzioni che rispetto al Parco Pirandello ha due leggi istitutive diverse e mentre queste e altre istituzioni e i siti, in genere agli argentini, che in essi o per passione o per altri motivi ci lavorano per fare anche accoglienza a chi di dovere o merita, che sono i nostri turisti, visitatori, viaggiatori che vengono da tutte le parti del mondo, dall'Europa, dall'Italia, noi abbiamo avuto scuole anche da fuori, a maggio è venuto un gruppo di olandesi ultra sessantenni ma tutti professori universitari che appositamente sono venuti a tenere, una persona è venuta a tenere una lezione di letteratura su Pirandello, anziché parla a questi sono amici, a tutti chi parla, anziché parla a questi sono...